Ciao a tutti, se un uomo fa queste tre cose ti ama veramente. Allora, quali sono le tre cose che deve fare un uomo affinché tu possa capire che ti sta veramente amando? Bene, la prima cosa fondamentale, anche se sembra strano, è non deve manifestare gelosie o comunque deve manifestare fiducia verso di te. Perché è ovvio che se uno è geloso, è eccessivamente geloso, diciamo così, perché poi va bene, un minimo di gelosia può anche essere un gioco piacevole, ecco se la gelosia è vissuta come gioco va anche bene. Ma qualora ci siano fenomeni di possessività, di non fiducia, di voler controllare, di voler coercizzare, coercizzare significa dire no, questo non devi farlo, quello non devi vederlo, quest'altro non devi vederlo. Allora, cosa significa? Significa che effettivamente questa persona nei tuoi confronti non ha fiducia, quindi pensa che tu sei una persona, insomma, che non merita di essere fiducia. Pensa, insomma, che sei una di quelle fondamentalmente, non ha poco di buono da un certo punto di vista, perché è evidente, questo è la cosa, quindi non può essere amore quello, non può essere amore. Un'altra cosa, quindi dimostrare fiducia invece è un qualcosa di fondamentale per capire se un uomo ti ama veramente. Un altro modo per capirlo, questo è legato di più, diciamo così, alla sfera passionale, e se vedi che prova una forte attrazione per te, ha voglia sempre di stabilire dei contatti, di stabilire delle connessioni, delle connessioni anche fisiche. Diciamo che passare del tempo con te, non soltanto da un punto di vista fisico-sessuale, ma in generale, proprio aver voglia di avere un contatto nei tuoi confronti, di stabilire, diciamo così, una comunicazione, di prenderti in considerazione, non soltanto, ripeto, da un punto di vista sessuale, anche se questo è molto importante, ma è come se la sessualità si estendesse a un po' tutti gli ambiti della vita, quindi proprio il desiderare, il desiderare di stabilire una connessione profonda che parta dal sesso, ma che vada a prendere anche tutte le altre sfere della vita. Ecco, questa è una forte dimostrazione che quest'uomo ti ama, che quest'uomo ha, diciamo, prova, un sentimento vero, un sentimento realistico nei tuoi confronti. E l'altra cosa è che va a cercare, la terza cosa molto importante, va a cercare uno scambio, quindi attraverso la relazione con te si sente appagato, anche da un punto di vista, diciamo, più profondo, anche da un punto di vista, potremmo definire, spirituale. Comunque c'è un'intesa d'anima, ecco, questo significa che c'è veramente un'intesa d'anima e questa persona poi praticamente come si manifesta? Si manifesta col desiderio, col desiderare che tu possa essere felice, ecco. E quindi cerca di favorire tutte le situazioni, le cose, i contatti, le persone, che ti possano dare felicità. Il che non significa che mette da parte la sua felicità, però, come dire, cerca dei punti che possano far sì che entrambe le persone, tu e lui, potete essere felici, perché questo significa che ti vede, vi vede come una coppia. Ecco, quando si manifestano queste situazioni, quindi, diciamo, lui per te fa delle cose che normalmente non farebbe, ma mentre le fa, gli piace farle, le trova positive e ne ha un appagamento e tu riconosci questo dal tipo di comunicazione non verbale che metti in atto, ad esempio, si tocca spesso le labbra con i tuoi confronti, usa spesso la carezza, cose di questo genere, su di sé e cerca anche, ovviamente, di manifestare le stesse cose sul tuo corpo, perché quando una coppia è veramente unita, c'è proprio una, diciamo, si crea una sorta di mirroring, di rispecchiamento, quindi le cose, la carezza su di sé poi diventa la carezza su di te, questo crea veramente un'intesa non verbale, veramente profonda. Ecco, se tu riesci a osservare queste tre cose, significa che quest'uomo veramente è profondamente innamorato di te e desidera profondamente che tu possa essere felice, quindi è una relazione che poi funziona anche su un piano cognitivo, su un piano emotivo, su un piano sessuale, insomma, è veramente una relazione d'anima, fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, mi raccomando iscriviti al canale, ciao!